Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo. Sono i tre comuni del Foggiano che domenica e lunedì prossimo andranno al voto di ballottaggio per la scelta dei nuovi sindaci. Solo San Giovanni Rotondo è in corsa un primo cittadino uscente. Michele Crisetti, supportato dal PD ed altre forze progressiste, se la gioca con Filippo Barbano, supportato dal Movimento 5 Stelle e da un gruppo di civiche in vantaggio nel primo turno con il 36%. Barbano è l'uomo di Conte che nella sua San Giovanni Rotondo vuole vincere anche a dispetto di una ritrovata intesa possibile col PD a livello nazionale. Il centro-sinistra si presenta in vantaggio, primo turno alla mano, sia a Manfredonia che a San Severo. Nella città del Golfo, Domenico Lamarca spera in una intesa, seppur non ufficiale, da campo largo per gli ultimi 100 metri che lo separano dal traguardo, a contendergli il campo e Ugo Galli, centro-destra. Le inchieste giudiziarie aperte su esponenti della passata amministrazione, che coinvolgono anche l'ex sindaco rotice, potrebbero avere il loro peso. A San Severo, Angelo Masucci, centro-sinistra, parte in vantaggio su Lidia Colangelo. Nonostante il supporto di Anna Paola Giuliani, terza e primo turno, il centro-destra non appare compatto e la stessa somma dei voti non sembra in grado di scalfire la pole position di Masucci.